La terapia riabilitativa tradizionale dal vivo presso la struttura affiancata a collegamenti in remoto per seguire i pazienti anche a casa. Il lockdown ha arricchito il percorso terapeutico proposto dal Renzullo Centro di Riabilitazione a Sarno, trattamenti in forma mista come previsti anche dal decreto governativo. Per mantenere un legame con i propri pazienti, soprattutto quelli più piccoli, la struttura del presidente Nello Renzullo ha infatti attivato durante il periodo della quarantena una serie di collegamenti con i propri pazienti che sono stati seguiti a distanza dai terapisti che hanno potuto fare lezioni, dare indicazioni, suggerimenti. Oggi con la ripresa completa delle attività il Renzullo Centro di Riabilitazione a Sarno ha deciso di proseguire su questo doppio canale che consente di seguire a 360 gradi i pazienti. Già da metà marzo abbiamo attivato quindi un percorso di trattamenti a distanza di vario tipo, ovviamente facendo preventivamente uno screening di famiglie disponibili e anche attrezzate e organizzate, di bambini che a nostra conoscenza potevano appunto fruire in maniera funzionale di questa possibilità di trattamento e quindi abbiamo avviato un lavoro che ha dato una discreta proficuità potendo anche sviluppare più setting, più attività riabilitative tra ovviamente in primis logopedia e psicoterapia ma anche abbiamo fatto delle psicomotricità e anche delle terapie occupazionali. Oltre a mantenere un contatto con i più piccoli e con tutti i pazienti, il collegamento via internet ha consentito ai terapisti di appropriarsi dell'ambiente domestico e conoscere i propri pazienti entrando un po' di più nelle loro vite, nelle loro case, costruendo un legame più personale, utile al rafforzamento del percorso terapico. Voglio dire costruttivo dal punto di vista umano perché si sono ingaggiate risorse che altrimenti non le abbiamo potute vedere, siamo anche entrati nei salotti di casa delle persone quindi ne abbiamo anche un po' più respirato l'area dell'ambiente, quindi abbiamo anche un po' forse preso più dati che ci saranno poi anche utili successivamente.